La giornata di domani, la Sicilia del 12 luglio 2011, scatto di controllo delle multe sugli indisciplinati dei rifiuti. Il Comune istituisce una pattuglia di vigili urbani che girerà nei quartieri. Istituita una pattuglia di vigili urbani che avrà il compito di controllare il rispetto dell'ordinanza sul deposito dei rifiuti e multare i trasgressori. Ad annunciarla all'istituzione il sindaco Antonio La Catania che spiega i motivi che lo hanno determinato a questa decisione. Non sono mai stato un fautore della repressione, spiega il sindaco, perché è convinto che è molto più costruttivo spendersi per la prevenzione. Purtroppo, però, malgrado i nicosiani sono in grande maggioranza rispettosi delle regole, non manca chi dimostra di non avere a cuore neanche la salute propria e dei propri figli. Bastano pochi sacchetti di immondizia depositati dopo il prelievo da parte degli operatori ecologici per creare con questo caldo rischi seri di diffusione di animali nocivi, oltre che di cattivi odori. Per non parlare del decoro di una cittadina che i visitori trovano piacevole ed elegante, ma che rischia di essere compromesso da pochi incivili. La Sicilia del 13 luglio 2011, la frana di Nicosia, incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta a carico di un imprenditore accusato dalla procura di avere responsabilità nel dissesto del costone Pineta. Un perito depone sul crollo, nominato dal giudice per accertare le cause del cedimento, ora ha depositato l'esito. L'incidente probatorio chiesto dal PM Fabio Scavone, disposto dal GIP Alessandro Dagnino, deve accertare se la frana è stata causata allo scavo realizzato a Monte, nel quale, secondo le ipotesi dell'accusa, non vennero eseguite le necessarie opere di smaltimento delle acque. L'imprenditore che ha effettuato i lavori è indagato per frana colposa. La massa di terreno ormai da oltre un anno continua a scendere progressivamente verso il basso, invadendo via nazionale. L'arteria, che è una delle più transitarie della città, è in parte transennata. Cronaca giudiziaria, la rissa in un locale di Nicosia, patteggiamento peraltro romeno. Ha chiesto di patteggiare anche il terzo cittadino romeno coinvolto nel settembre del 2010 in una rissa in piazza San Francesco, che vive come protagonisti anche tre giovani nicosiani. La ratifica del patteggiamento è prevista per domani dinanzi al gruppo del Tribunale di Nicosia, dopo il parere favorevole espresso dal PM a concordare la pena per Mirel 23 anni, difeso dall'avvocato Salvatore Limpanaro. Nei primi anni scorsi avevano patteggiato già in istruttoria e quindi davanti al GIP altri due cittadini romeni, padre e figlio coinvolti in un vero e proprio scontro con il gruppo di nicosiani. I due patteggiarono la pena ad un anno. Il Pubblico Ministero all'epoca non si pronunciò su una richiesta di patteggiamento in istruttoria anche per il 23enne, che invece è stato ammesso a concordare la pena solo davanti al giudice per le udienze preliminari, alla quale la procura ha chiesto il rinvio a giudizio. Casa alloggio, la Regione invia fondi per coprire rette degli utenti. C'è anche il Comune di Nicosia tra quelli che beneficeranno dei contributi regionali per le spese derivanti dalle rette per comunità alloggio. Nel bilancio della Regione sono state assegnate somme a copertura di tali spese per un totale complessivo di poco meno di 11 milioni di euro. Le somme sono stanziate per garantire la copertura delle spese che derivano dalla gestione mediante convenzioni delle comunità alloggio per i minori sottoposti a produttimento dell'autorità giudiziaria minorile e cui onere sono stati posti a carico del bilancio della Regione. Questa pertanto provvede a stanziare in bilancio e poi ripartire tra i comuni che ne hanno diritto in proporzione all'onere complessivo previsto dall'indice Istat relativo all'anno 2010. Di così è l'unico comune della provincia di Enna ad essere inserito nella lista dei 26 comuni siciliani che hanno diritto alla somma. Inizia la stagione estiva, inizia la stagione degli incendi, vigili del fuoco e corpo forestale impegnati anche con mezz'aeree in varie zone dell'area. Nord le fiamme minacciano la riserva. Ieri mezz'aeree in azione dell'alba per spegne gli incendi che hanno interessato la zona di Monte Altesina, fortunatamente solo lambendo la riserva naturale. Già dieci minuti prima delle sette sul posto è intervenuto un elicottero sierra del corpo forestale, il cui intervento era stato chiesto dalle squadre di terra e che si è alzato in volo non appena lo hanno permesso le condizioni di luce. I mezzi aerei addetti allo spegnimento infatti possono decollare solo mezz'ora dopo il sorgere del sole e devono rientrare tassativamente mezz'ora prima del tramonto. Considerato che opera una bassa quota su aeree impervie, spesso rifornirsi di acqua in bacine artificiali di limitate dimensioni, tutte situazioni per le quali la visibilità è fondamentale per i piloti. Meno di mezz'ora dopo sul posto sono intervenuti anche due canader. Le fiamme all'Altesina erano state domate dopo circa due ore di intervento ma a mezzogiorno sono nuovamente divampate. Le alte temperature e il vento che espirava nella zona hanno reso necessario un secondo intervento dei canader. Anche se al momento non ci sono conferme, ci sarebbero forti sospetti circa la natura dolosa dell'incendio. I mezzi aerei supportati dalle squadre di terra e del corpo forestale poco dopo mezzogiorno hanno dovuto intervenire anche su un altro fronte divampato in territorio di Sperlinga, distante linee d'aria dall'Altesina, circa 5 km. Anche per questo secondo fronte non si esclude l'origine dolosa e considerata l'avvicinanza tra le zone interessate raggiungibili anche attraverso il dedalo di strade rurali e interpoderali, non si esclude che siano stati gli stessi piromani ad appiccare i due incendi. La Sicilia del 14 luglio 2011 in prima pagina per quanto riguarda la provincia di Enna una triste notizia. Tragedia a Nicosia partecipava a una festicciola in una villetta forse ucciso da arresto cardico o da un aneurisma. 14 anni beve e muore. Tragedia ieri pomeriggio per l'improvvisa morte di un ragazzino di 14 anni ucciso probabilmente da un arresto cardico o da un aneurisma avrebbe dovuto essere una giornata spensierata trascorsa con un gruppo di coetani per una scampagnata estiva in una villetta nei pressi di Contrada Parola. Ma nel primo pomeriggio risate e scherzi sono stati interrotti dal ragazzo che un attimo prima stava parlando e subito si è accasciato. Gli amici hanno subito capito che qualcosa non andava ma Filippo, questo è il suo nome, era privo di sensi. Subito è stato chiesto dell'intervento del 118 ma quando il ragazzo è giunto all'ospedale Basilotta i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Tra le lacrime i compagni e gli amici hanno raccontato che Filippo si era accasciato all'improvviso. La reazione dell'Nicosia porge le condonianze alla famiglia del povero ragazzo 14enne. Cronaca giudiziaria, processo a Nicosia, maltrattamenti nominato perito per la parte lesa. Il giudice monocratico del Tribunale di Nicosia ha nominato il perito che dovrà accertare la capacità a deporre di una donna parte lesa in un processo per maltrattamenti in famiglia. La perizia era stata disposta a sorpresa dal giudice durante l'arringa della parte civile a quella che doveva essere l'ultimo dienza nel processo a carico di un sessantenne di Nicosia accusato di maltrattamenti alla sorella disabile e dal padre immobilizzato a letto. Secondo la denuncia presentata da una terza sorella il sessantenne avrebbe sottoposto i familiari a vessazioni. Il pubblico ministero Granata ha sostenuto che l'imputato ha sicuramente picchiato la sorella ma ha ritenuto non provata l'accusa di maltrattamenti e ha chiesto la condanna a quattro mesi solo per lesioni alla congiunta. Ed ora un'odizia positiva. Nicosia, consistente vincita al super Enalotto, ha azzeccato il 5 che vale 53.000 euro. Il baresso di piazza San Francesco di Paola che fa anche la ricevitoria super Enalotto gestita da Filippa Parisi è stato toccato della buona sorte facendo incassare ad uno scommettitore la vincita di un 5. Non una vincita da capogiro ma pur sempre una bella cifra esattamente pari a 52.976,21 euro. Buona fortuna e tanti auguri al nuovo vincitore da parte nostra. Ritorniamo sull'ennesima vicenda della discarica. Canalotto ormai, una vera telenovelas. La discarica di Nicosia si apre un nuovo capitolo giudiziario sulla vicenda legata alle presunte violazioni ambientali nel sito di Canalotto per le quali sono state condannate quattro persone. Ricorso contro le condanne, istanze in castazione dei difensori, la procura non impugna assoluzione di testa. Depositati i primi ricorsi in castazione per le condanne confermate dalla Corte d'Appello sulla vicenda della discarica. Intanto però la soluzione del dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale Antonino Testa pronunciata in primo grado e confermata in appello non è stata impugnata dalla procura generale e quindi potrebbe già essere definitiva. La sentenza era stata pronunciata il 25 maggio scorso e se la Corte non ha indicato termini le motivazioni sono state deposite lento il 10 giugno. Poiché per il ricorso in castazione i termini sono 30 giorni dal deposito della sentenza d'Appello, la soluzione per il dirigente comunale sarebbe ormai definitiva. La Sicilia del 15 luglio 2011 ok al bilancio 2011 da 20 milioni. Con lo strumento finanziario più ossigeno al Comune, il via libera pone fine all'esercizio in dodicesimi che ha limitato la capacità di spesa dell'ente e approvate anche due emendamenti per riportare equilibrio politico. Il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2011 dando via libera l'utilizzo di circa 20 milioni di euro e ponendo fino all'esercizio in dodicesimi che limita presentemente la capacità di spesa dell'ente. Il via libera, lo strumento di programmazione economica e finanziaria, è arrivato nella tarda sera di mercoledì dopo che il Consiglio ha approvato l'emendamento da 120 mila euro proposto dalla maggioranza di centrosinistra e quello da circa 20 mila euro dell'opposizione per la sistemazione dei parchi gioco. Un passaggio che ha consentito di creare un clima sereno per la votazione che poi è avvenuta a maggioranza. L'opposizione si è infatti astinuta e non ha votato contro proprio perché era stato approvato uno degli emendamenti proposti. Una seduta il cui esito era tutto sommato più che prevedibile, considerato che nessun consigliere si sarebbe preso la responsabilità di determinare la bocciata del bilancio e quindi il commissariamento dello stesso Consiglio Comunale. La Regione concede 6 milioni per rifare la rete idrica, progetto del Comune presentato da Acqua Enna. 6 milioni di euro per la sistemazione della rete idrica urbana e il finanziamento concesso dalla Regione Siciliana al progetto presentato da Acqua Enna, gestore di servizio idrico integrato e predisposto con il Comune. La somma trova copertura finanziaria nel POR ma per ottenere il decreto definitivo sarà necessario presentare il progetto esecutivo, cioè cantierabile. Ieri si è svolta a Enna una riunione operativa tra Acqua Enna ed il Comune al quale ha preso parte il sindaco Antonello Catania. Diciamo che è stato fatto il primo passo fondamentale e spiega il sindaco per ottenere i fondi necessari ad ammodernare ed ottimizzare tutta la rete idrica dell'abitato di Nicosia e Villadoro. Il progetto depositato nei mesi scorsi è stato ritenuto ammissibile e adesso si entra nella fase esecutiva. Abbiamo ottimi possibilità di ottenere i fondi richiesti. La rete idrica venne ammodernata e in parte rifatta oltre dieci anni fa con un finanziamento da 14 miliardi di lire che prevedeva l'informatizzazione dell'acquedotto interno. Alcune aree del centro cittadino rimangono fuori dagli interventi e in ogni caso da allora sono sorti centinaia di nuove abitazioni ed edifici con quartieri che hanno quasi raddoppiato le proprie dimensioni. ed anche per questa settimana abbiamo concluso la nostra rassegna stampa sulla settimana nicosiana. Un arrivederci alla prossima puntata. Buona serata a tutti voi.